Benvenuti alle news dello spazio elettrico e universo offerto da Thunderball Project su thunderball.info. Gli esperimenti quantistici sono stati dimostrati da tempo e le particelle subatomiche in qualche modo sanno immediatamente una dell'altra a grandi distanze. La scienza istituzionale utilizza termini quale intreccio quantistico o d'azione fantasma per descrivere il fenomeno. Ma la teoria dell'universo elettrico offre una prospettiva ben diversa. La velocità della luce limita la comunicazione imposta dalla teoria della relatività, non è un limite della velocità universale. Il fisico Walt Thornhill descrive come può essere osservata nella nostra vicina volta a celeste, ha scritto, se la gravità viaggia alla lenta velocità della luce, la Terra sarebbe tirata dove appare il Sole nel cielo e non nella reale posizione del Sole nello spazio. Questo è il risultato dell'effetto di una fionda che lancierebbe i pianeti fuori dal sistema solare in poco tempo. L'osservazione di stelle binarie vicine dove l'effetto si nota in modo estremo e rapido mostrerebbe che, lavorando ad una velocità in eccesso di 20 miliardi di volte, la velocità della luce prevedrebbe le orbite a spirale. Il Sole e la Terra avrebbero istantaneamente le informazioni delle loro posizioni. In questo nuovo episodio delle news spaziali, l'arcivescovo Nicholas Schaetz elabora le differenze fondamentali in questo proposito fra l'universo elettrico e la cosmologia standard. Nel mio video delle news spaziali della Thunderbolt ci sono dei domino che cadono. Si discute che la trazione gravitazionale fra il Sole e la Terra deve essere perlomeno istantanea. Diversamente la Terra e gli altri pianeti sarebbero fiondati fuori dalle loro orbite. Questo fatto sarebbe inconciliabile con i dettami della teoria della relatività, dove il collegamento più veloce possibile fra un punto ed un altro è la luce. E per essere più accurati, la radiazione elettromagnetica di cui la luce visibile è un componente. Questo è perché se il supposto collegamento più veloce fra il Sole e la Terra viaggia alla velocità della luce, significa che la trazione gravitazionale che esiste fra il Sole e la Terra non può essere trasmessa fra loro così velocemente come la velocità della luce, che appunto viaggia fra loro. Da quanto si sa, la luce impiega approssimativamente 8,3 minuti per viaggiare dal Sole alla Terra. Dovremmo presumere che la trazione gravitazionale si trasmette fra il Sole e la Terra e viceversa per un periodo di tempo non inferiore di 8,3 minuti. Tuttavia questa deduzione porta inevitabilmente alla conclusione che la Terra è in realtà attratta in qualche punto nello spazio, che è il luogo del centro di gravità del Sole 8,3 minuti fa, anziché dove si trova il centro di gravità, che in realtà adesso è quello che la Terra prova sull'attrazione. Questa conclusione dà vita ad un fenomeno fatale di contraddizioni. Prima contraddizione. Con il rispetto delle orbite planetarie del sistema solare secolare che possiamo affrontare senza pregiudizi sull'argomento, la forza centripeta sull'orbita della Terra dovrebbe essere ortogonale sul movimento del pianeta, ma la forza gravitazionale trasmessa dal Sole alla Terra alla velocità della luce sarà, una volta raggiunta la Terra, sarà spostata dal tragitto che avrebbe dovuto fare se la forza aveva agito istantaneamente. Non è più ortogonale sull'orbita della Terra, quindi non essendo più centripeta potrebbe in breve tempo astronomico influenzare il pianeta che abbandonerebbe l'orbita, ma questo non succede. Seconda contraddizione. Non esiste una frequenza di tempo nei termini dell'equazione di Copernico o Keplero per le loro osservazioni delle orbite planetarie che comunque non anticipano alcuna frequenza di tempo come la trazione gravitazionale che dovrebbe funzionare più lentamente della velocità della luce di cui avrebbe necessità. Non c'è nemmeno un termine di frequenza di tempo nella legge di Newton che è interpretata come azione e reazione che sono uguali ed opposte. Nel sistema eliocentrico newtoniano comprendiamo le forze di attrazione di cui il primario di suoi satelliti esercitano uno con l'altro e che sono uguali ed opposte. La reazione che è causata da un'azione di 8,3 minuti prima, nel caso della Terra e del Sole, non potrà più essere l'opposto come descrive la legge. Questo effetto lo potete vedere nel mio diagramma. Il Sole è il punto di riferimento o la costituzione di riferimento per l'orbita della Terra. L'argomento si è sviluppato molto bene sul forum di Thunderbolt il 22 ottobre 2016 in cui sono state postate referenze del lavoro di Tom Van Flandert dove è stato citato il signor Arthur Hennington che nel 1920 ha esposto l'argomento in un paio di volte dove la velocità della luce e della gravità fra il Sole e la Terra avrebbero esercitato. Questo è lo stesso argomento che sto utilizzando che implica una leggera differenza dal punto di vista. Non ho ancora letto questo lavoro prima della produzione di questo video. Lascio ad altri per la verifica dei fatti per il fatto che Eddington è diventato il grande proponente per la relatività di Einstein a dispetto del suo lavoro su questo argomento. Il collegamento fra il Sole e di pianeti può essere visto come un tiro alla fune nel corrente modello dell'universo elettrico e lettere dello spazio si comprende bene come lo descrive Thornhill che consiste in un pieno di neutrini. Nella nostra prova una fune sarà il mezzo di trasporto di onde causato dal movimento da una parte della fune, forse da una parte all'altra o forse dall'alto in basso. Dopo un po' di tempo questo trasferimento di moto ondulatorio raggiungerà l'altra estremità della corda. Tuttavia se la corda è costruita con un materiale a malapena estensibile e se una estremità è fissata questo fissaggio si sentirà all'estremità opposta molto velocemente, perlomeno in paragone al tempo che l'obiettivo è stato fatto. Questa comparazione può essere collegata alla relazione fra la trasmissione della luce e le onde elettromagnetiche trasversali e la più veloce attrazione gravitazionale fra due corpi massicci. La radiazione elettromagnetica è per datura trasversale ma nella trazione gravitazionale o perlomeno se viene interpretata come la repulsione è longitudinale. Le leggi di Kepler o Newton si pensa suppongano che il fattore in ogni momento si perde nel minuscolo da essere totalmente trascurato. Il modello dell'universo elettrico della gravitazione richiede almeno un'istantanea condizione dove non si possa affermare che tutto collassi in un solo istante. Esiste inoltre la possibilità di una correzione dell'orbita planetaria che inizia ad andare fuori strada a causa di un'extra attrazione elettrica newtoniana o repulsione. Per i fisici newtoniani non si tiene conto della stabilità dell'orbita che si è osservata o le minuscole correzioni che si manifestano di volta in volta. Queste correzioni tuttavia non possono prevenire il primo ordine fisso di propulsione fuori da ogni orbita che la velocità della luce della gravità inevitabilmente produce. Ci sono molti altri argomenti contro la relatività di Einstein. Qualcuno afferma che la grande storia dell'etere sugli esperimenti che sono andati alla deriva nell'ultimo secolo è stata comunemente mal riportata. La velocità della gravità superiore alla luce è un altro domino che cade e che fa collassare la teoria della relatività. Grazie a tutti. Grazie a tutti.